Il segreto anticipazioni, Marcella rischia la vita, Mattias la tradisce con Beatriz nelle prossime puntate del segreto in onda su canale 5 vedremo come il Triangolo amoroso tra Mattias Castaneda, Ivan Montes, Beatriz Dos Casas, Giulia Charm e Marcella del Molino, Paola Ballesteros diventerà sempre più ingestibile e pericoloso Mattias, nonostante il matrimonio con Marcella, ha ceduto all'ardente del suo primo amore, ovvero Beatriz, e il tutto è avvenuto casualmente visto che la Dos Casas E i Castaneda si sono incontrati proprio nel prato di More, credendo fosse un segno che li spingeva a continuare la loro relazione Dopo aver fatto l'amore però, Mattias sarà travolto dai sensi di colpa Beatriz continuerà quindi a soffrire, onde evitare ulteriori dolori, deciderà di scrivere una lettera di addio per troncare la relazione extra coniugale con Mattias Gli spoiler dei futuri episodi ci dicono però che una tormentata Beatriz cercherà in vano di convincere il Castaneda a restare con lei I due ragazzi continueranno ad amarsi ma lui si sentirà a disagio per ciò che stanno facendo Mattias ormai è un uomo sposato e non sarebbe giusto continuare A mentire sia per se stessi e sia nei confronti di Marcella, tuttavia l'amore è irrefrenabile e così Mattias e Beatriz avranno un nuovo momento di intimità Comunque sia, la relazione segreta rischierà di essere scoperta poiché la piccola Belen riconoscerà un disegno fatto da Beatriz trovato casualmente da Marcella Emilia, la madre di Mattias, sospetterà quindi del tradimento del figlio Cosa succederà quindi nei successivi episodi della SOC di Canale 5? Mattias ovviamente inventerà una scusa, riferendo alla madre che il disegno in questione è soltanto un regalo di addio della dose Casas Le anticipazioni indicano inoltre che Beatriz farà una telefonata a Mattias il quale si troverà nella locanda dei genitori assieme alla moglie e gli chiederà di incontrarsi nel loro nascondiglio, ovvero il capanno Mattias, titubante all'inizio, alla fine accetterà l'invito inventando una scusa con Marcella per potersi assentare Il castaneda infatti dirà alla moglie di dover andare ad aiutare un amico in una tenuta nei pressi del burrone delle aquile In seguito, apprendendo da Nicolà l'avvicinarsi di una tempesta, Marcella si incamminerà verso quella zona senza avvisare nessuno, convinta di poter raggiungere in tempo il marito riportandolo a casa Le cose però non andranno così, Marcella infatti verrà travolta da un albero e rimarrà gravemente ferita In tutto ciò Mattias si troverà beatamente tra le braccia di Beatrizia e si renderà conto dell'assenza della moglie solo quando farà ritorno alla locanda Nessuno saprà dove si troverà Marcella e solo, grazie alla testimonianza di alcuni uomini, Mattias capirà che Marcella si è avventurata da sola verso il burrone delle aquile per poterlo avvisare della tempesta Il giovane castaneda si sentirà tremendamente in colpa e, allertata la guardia civile, si cercherà subito la povera Marcella anche grazie all'aiuto degli abitanti del paese Ma come reagirà Beatriz riguardo a tutto ciò, da non perdere, diventa fan della nostra pagina Facebook su Il Segreto Ecco l'indirizzo Allora iscriviti al nostro canale per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni Anticipazioni, ecco l'indirizzo, http2.i-www.telegram.me-tvsoap Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole dei Il Segreto sono qui Le trame delle puntate, invece, sono qui Anticipazioni puntate italiane Beatriz Il Segreto Marcella Il Segreto Mattias Il Segreto 2018-02-04 Aurelia Maggino Aurelia Maggiore Aurelia Maggiore Aurelia Maggiore Aurelia Maggiore Tutti Aurelia Maggiore E patient Attro Aborda Abbanda Aurelia Maggiore Autore